Pagine utili in Mondadori. Buonasera, tra pochissimi minuti il TG5 di mezzasera, un giornale ricco di notizie. Cominceremo con le elezioni in Israele, elezioni importantissime anche per il processo di pace. Le urne sono state chiuse, ci sono i primi exit poll e la situazione fra i candidati in Lizza è di parità, ma vedremo tutto fra poco. E poi parleremo di politica, oggi torna a parlare lungamente Silvio Berlusconi e parla di quella che sarà l'opposizione del Polo. E ancora la rivolta fiscale nel nord-est, il ministro Visco delle Finanze ha convocato oggi un vertice e vedremo quali sono le conclusioni. E poi è arrivato dal Ministero della Sanità il rapporto sulle nostre spiagge, quindi capiremo quest'anno dove possiamo andare a fare il bagno. E poi parleremo di calcio, stasera ha giocato all'Italia, la partita è finita poco fa, vedremo com'è andata. Fra poco al TG5. Scopri il tempo, festina titanio. Benvenuti nell'Iperspazio. Solo l'IP trovi gli per regali. Chiedi il pallone del tuo sport preferito. IP, la magia che ti premia. La strada. C'è chi la segue. E c'è chi la domina. Peugeot 306. Il piacere di una tenuta di strada insuperabile. Peugeot 306. Il piacere di un equipaggiamento ricco. Peugeot 306. Il piacere in 28 versioni. Da 22.585.000 lire. E finanziamenti a tasso zero. Il piacere in 28 versioni. I don't want nobody Better off alone I'm sworn to independence Grazie a tutti